Lo chiamavano il preparatori. Era il miglior allenatore sulla piazza. Aveva fiuto da vendere. Ma qualcosa stava per cambiare. Ehi ragazzo, cosa ti prende? C'ho la rabbia! Ti va di mettere questa fottuta rabbia sotto contratto? Come ti chiamo? Bappo! Tu sei pugile! L'ho trovato, donna! Cosa? E' l'uomo che cercava. Tu devi percorrere la tua strada, ma la mia strada è al baretto. Sarà una bomba, donna. Da ora in poi il ring sarà il tuo unico baretto. Il pugilismo, ragazzo, è un mondo di dolore, di latime. Ma tu hai la stoffa, ragazzo! Ma io sono scemo! Questa qui è roba forno! Fermo, bappo! Arriverà il tuo momento. Devi vedere come si muove. Come combattere. Stupito da un talento nascosto. Ma nascosto bene. Muovi quelle fottute gambe. Bappo, non sei buona nulla. Io sono pugile! Tu devi allenare mai. Io non alleno, femminuccia. Ciao, donna. Ehi, chi è? Lui è bappo. Ma questo è un po' io. Ti sta a vedere, donna. La scoperta di una nuova tecnica di pugilato. È un'arma segreta, donna. È il pugno di lato. Il pugno di lato. È pazzesco. Bappo è fortissimo, donna. La stai scanzando? Concedimi un incontro, uno solo, con chi vuoi, e te lo dimostrerò, donna. Dall'anomalo romanzo di Omer Giugiancice. Cosa sei? Sono pugile! Non ho sentito! Cosa sei? Sono pugile! Vai! Rupert Sciamena. Maccio capatonda. E con la famosa partecipazione di Gino. Aia, ma sei scemo! Aia, ma sei scemo! Un film di Alejandro Ramirez in aridito. Mi hai fatto male, cacchio!